ciao a tutti oggi vi farò vedere delle forbici speciali queste sono delle normali forbici mentre queste altre sono delle forbici davvero speciali sembrano uguali sono simili ma in realtà sono piuttosto difficili da trovare altissima qualità acciaio inox delle forbici di questo tipo in acciaio inox sono davvero un prodotto speciale al 100 per cento made in italy fatti a premana con accurate lavorazioni artigianali ma soprattutto il materiale materiale acciaio inox temprato di alta qualità permette a queste forbici di resistere all'ossido quindi non si arruggineranno mai inoltre la vite è una vita e tornita di alta qualità che permette alle forbici di mantenere la forza di taglio molto più lungo come possiamo vedere sono due modelli uno con il doppio anello l'altro invece con l'anello singolo come dimensioni siamo sui 17 centimetri e mezzo e 15 centimetri e mezzo che corrispondono nella realtà a 6 pollici e a 7 pollici perché le forbici vengono misurate in pollici normalmente comunque noi vediamo la lunghezza in centimetri tanto per avere un'idea delle dimensioni delle forbici ecco qui le vediamo paragonate a delle normali forbici in acciaio nichelato con la stessa forma ma appunto con un materiale completamente diverso l'acciaio nichelato col tempo può lasciare un puntino di ruggine si possono formare delle macchie nere sulle lame mentre queste qui in acciaio inox non si modificheranno mai sono eterne se vi interessano forbici di questo tipo o per la cura della persona o coltelli da cucina potete visitare il nostro sito elettronica didattica punto com se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale per restare sempre aggiornati e vedere i prossimi video per ora vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti a presto